Intraprendiamo un nuovo percorso nel solco ormai del programma che come Consiglio dell'Ordine ci siamo dati e sempre nell'ottica di andare incontro ai bisogni dei colleghi. Grazie a una brillante intuizione che abbiamo avuto con alcuni colleghi, con il collega Francesco Dacente, con due giovanissimi colleghi Andrea Salinari e Adriano Minetola, abbiamo contattato un amico, un nostro collega, ma io personalmente posso dire un vecchio amico, l'avvocato Lelio Miro, presidente della Banca di Taranto, prospettando di questa nostra idea. L'iniziativa consiste nella disponibilità da parte della banca a anticipare i crediti che gli avvocati hanno maturato nei confronti dello Stato per i patrocini a spese dello Stato. Sappiamo tutti che questi crediti vengono riscossi con grande difficoltà e soprattutto in un lungo lasso di tempo attese le difficoltà che da un punto di vista burocratico nascono quando si arriva al termine di questi procedimenti. L'idea è quella proprio di bypassare questo piccolo muro che si frappone tra la chiusura della procedura e la riscossione del credito utilizzando il credito bancario. In pratica la banca a presentazione delle fatture da parte degli avvocati anticiperà una corposa quota del credito pari all'80% che verrà quindi erogato con i tempi ovviamente delle banche, i tempi di lavoro delle banche, in maniera tale da permettere ai colleghi di avere finalmente liquidità in questo momento complicato e soprattutto con la possibilità di poter guardare con più serenità all'immediato futuro. Io sono molto contento, sono contento per due motivi, sono contento sotto un aspetto personale e sotto un aspetto istituzionale, questa è casa mia, l'ordine resta il luogo dove ricordo gli ultimi anni e gli ultimi momenti di papà, l'avvocatura per me è nel sangue, la nostra famiglia deve a questo lavoro la nostra possibilità che abbiamo avuto noi di studiare, i nostri figli di studiare quindi per me questo pezzo personale ha avuto indubbiamente un grande peso quando gli amici Checco, Fedele, sono venuti a proporre questa ottima iniziativa e la loro intuizione poi da un'altra parte appunto istituzionale mi fa contento perché mi permette nel ruolo di presidente della banca, ma di presidente tarantino, di una banca tarantina di essere d'aiuto alla nostra comunità, questo è lo scopo della nostra banca, la banca è nata per questo motivo non è il nasore